Alberi e pietre appartengono al mondo dei ciclopi e dei titani. E tu Pietro, se sarai bravo, forse potrai raccontare le loro imprese al mondo degli umani. Un'opera densa compatta costruita con il metodo della speranza e del dono. Foto e contributi di Leonardo Berra, Mirna Ortiz Lopez e Paola Arias.